Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino al 30 novembre, per lavori di manutenzione ordinaria nella fascia oraria compresa tra le 22 le 6, istituito il ristringimento di carreggiata tra le uscite a Salerno Centro e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni di intratti saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo di Benevento da lunedì 20 novembre a venerdì 1 dicembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria 7 e 17 segnaliamo carreggiata ridotta tra lo svincolo Benevento della 16 Napoli-Canosa e l'uscita San Giorgio del Sagno in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 145 Sorrentina fino a giovedì 30 novembre, per lavori, carreggiata ridotta, tra il casello di Castellamare di Stabia della 3 Napoli-Salerno e lo svincolo Castellamare-Ospedale in direzione Sorrento. Sulla strada statale 166 degli Alburni fino al 29 dicembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo al senso unico alternato su tutto l'asse in tratti saltuari. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Servizio a cure di Acami e Regione Campania